Prossima fermata, zona morta europea. Sarà la nostra nuova casa per un po'. Guarda, lo riconosci? È lì che dobbiamo andare. Quello, lo chiamano il frammento del viaggiatore. Io lo chiamo posto dove è meglio non avvicinarsi. Per esempio, potrei... Oh, sono grata di vederti in Colume. Mi chiamo Tyra. Tyra Karn. Scusa, ci siamo già incontrati? Perdere l'unione con la luce mi ha... disorientata. E così... so che sei in cerca del frammento del viaggiatore. Anch'io ho sognato di cercarlo. Con le sue... punte spezzate. Come una ferita inguaribile. Ma non mi fido ad avvicinare. Wow. Uff. Quanta civiltà. Ho vissuto anni fuori dalla città. E non sono più abituata a tanta gente. E dunque... so che vuoi andare a curiosare vicino al viaggiatore. Voi guardiani avete proprio... A dopo. Sputa il rospo. Sentirei nella porta. Mi dirigo alla stazione 3. Dev, tieni la testa bassa. No, non credo che i paduti siano interessati. Volete davvero avventurarvi? Quel frammento è il motivo per cui la chiamano una zona morta. Dobbiamo, Otorna. È un segno? Sì, un segno di morte. Sai, conosco molto bene la zona morta europea. È affascinante. Alla fine non la trovi tutti i giorni. Una foresta oscura e infestata. Ma i non guardiani non avrebbero dovuto lasciare la città. Ricordati una cosa delle regole della città. Fuori dalle sue mura non valgono più. Nessuno osa andare oltre. O quantomeno nessuno che tenga la propria vita. è vero. Fatemi sapere quando raggiungete l'altro lato Otton Otton, riesci a sentirci? Segnale perso Hai sentito qualcosa? Dopi Solum E cad куда? O U U U U i caduti non portavano i colori dei casati che conosciamo i caduti non portavano i caduti non portavano i caduti non portavano i caduti il frammento del viaggiatore ci siamo uguale alla nostra visione a Grazie a tutti. 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 La luce è tornata. Siamo tornati. Seminiamo un po' d'amore. Fai brillare questa luce. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.